Salve, vi presentiamo oggi la MS251 nella versione C, versione Comfort. Cosa ha questa macchina di diverso dalle 251 classica? Ha un avviamento facilitato e il tendi catena rapido. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa macchina si presta benissimo all'avviamento facilitato da parte di persone che non hanno più la forza per dare uno strappo deciso e avviare anche una motosega di piccola cilindrata. Con questo sistema c'è una moglie particolare inserita nell'avviamento che basta estrarre le funicelle senza usare una particolare forza per far sì che la macchina si accenda in automatico. Quindi abbiamo il primer per caricare il carburatore e far sì che l'accensione sia già agevolata. Dopodiché, quando andiamo a restare la corda, alla fine quella moglie supplementare ci aiuta nell'avviamento facilitato. Tendi catena rapido. Tendi catena rapido ci consente di andare a fare la tensionatura della catena anche nel bosco senza l'utilizzo di attretti. Quindi nel momento in cui abbiamo da fare il tensionamento della catena si va ad agire su questa rotella, si tensiona la catena, si tiene sempre la spranga verso l'alto, si va a fissare il manettino e poi si incastra. Con questo sistema, molto rapido, si fa il tensionamento della catena senza appunto il classico utilizzo della chiave. Bene, andiamo comunque a provarla. Vediamo adesso la facilità di avviamento di questa motosega. Con le mani a sinistra, quindi senza il minimo sforzo, andiamo a deviare questa motosega. Come vedete, basta estrarre la corda semplicemente e la moglie ci aiuterà nell'avviamento delle mani. Bene, alla prossima! Bene, alla prossima!